Siamo con i lavoratori della forestale di Caltanissetta. Prima prestavano servizio qui al corpo forestale, si occupavano dell'antingentio. Adesso per risparmiare siete passati all'azienda forestale, ma con quale mansione? Come bracciante agricole in buca parola. Siamo stati messi dentro il bosco, ma intanto anche per sottolineare non ci hanno dato neanche i mezzi per poter lavorare. Le scarpanti importunistiche, i guanti, c'è quello che serve per un lavoratore degnamente di lavorare. Oggi siamo venuti qua per chiedere un parere al nostro vecchio datore di lavoro, in buca parola, che fine faremo. Perché ieri c'è stato comunicato che venerdì sarà l'ultimo giorno di lavoro, cioè anche per sapere la nostra fine cosa sarà. Poi hanno fatto questo taglio del 20% secondo me che è una cosa che non dovevano partire dal lavoratore. Bisogna partire da un posto più alto di fare i tagli. In buca parola abbiamo saputo che Montecanino e il bosco delle miniere Bosco c'è stato l'incendio e gli operai, andando da un posto all'altro, non possono soddisfare tutto il bisogno del lavoro che c'è perché sono in minoranza, mancando una bella percentuale di personale. Quindi voi vi lamentate anche del fatto che giustamente finora vi siete occupati dell'antincendio e avete fatto il vostro lavoro con amore, poi in questo periodo, con questo caldo, gli incendi sono ormai giornalieri, siete passati invece all'azienda per non fare nulla. In poche parole io mi prendo la mia responsabilità e da questo momento in poi ho fatto il quarto o dieci giorno e non ho fatto niente. E i soldi li dovrei prendere, voglio dire fammi fare qualcosa che serve. E il risparmio dov'è? Non l'ho capito neanche io perché oltre una cosa importante è che del risparmio parlavamo ma non è vero perché l'ispettorato forestale mi ha fatto passare una visita medica, diciamo la visita medica, che non so cosa è servita. L'azienda mi ha fatto passare la sua visita medica e poi ci abbiamo fatto una doppia visita medica e si sono spesi per 253 persone, 254 persone, dei soldi che non servono al momento. Quindi questo è il caso di lavoratori che non vogliono solo lo stipendio ma vogliono svolgere il lavoro per cui sono stati addestrati. Infatti non siamo parassiti, abbiamo voglia di lavorare. Io darei un consiglio che i tagli non bisogna farli, che le macchine della forestale non devono avere la benzina oppure c'è la difficoltà di sistemarli, c'è di partire anche forse quando vedo di pagare meno affitti per recuperare delle somme abbastanza sostanziose per poter fare una giornata di lavoro. Ma in pratica questi lavoratori della forestale per quale motivo sono stati messi in azienda e svolgono altre mansioni soprattutto in un periodo in cui gli ingenti sono giornalieri? È una bellissima domanda, lo vorremmo capire anche noi. Siamo arrivati al punto che chi oggi governa la Sicilia e il governo nazionale non riesce a dare risposte alle persone che vivono quotidianamente di lavoro. Cioè ci dovrebbero spiegare come mai trovano i soldi per le visite mediche e farli passare per l'ispettorato. Poi trovano i soldi per fare le visite mediche presso l'azienda. Spostare il 20% dei lavoratori dell'antincendio che non si riesca a coprire i servizi specialmente di notte riducendo le squadre. E oggi assistiamo a numerosi ingenti per mancanza di prevenzione. Ricordiamo che la maggior parte dei viali e parafuoco non sono fatti e il rischio ingenti è altissimo. Noi a livello provinciale e a livello regionale ha un mese che lottiamo contro questa decisione del governo e finalmente sembra che oggi dovrebbero rientrare in servizio questo personale.